Ciao a tutti, è tempo di trovare un nuovo amore. Se sei single da un po' di tempo, se hai voglia di metterti in gioco, se hai voglia di sperimentare di nuovo l'energia dell'amore, non devi restare bloccato, devi agire, perché l'azione è qualcosa di fondamentale, è un linguaggio simbolico e serve a stimolare anche proprio la legge dell'attrazione. Se io manifesto un'intenzione e metto in atto un comportamento che vada in quella direzione, è come se mandassi un potente segnale all'universo che desidero questa cosa e le energie dell'universo si metteranno in movimento. Un po' come dire, se voglio vincere all'otto, devo giocare all'otto, altrimenti non ci sono possibilità. Quindi se sei in questa situazione, fai delle azioni che siano inequivocabili, che siano come una forma di comunicazione con l'universo che ti metterà in sintonia con queste nuove possibilità. Perché trovare un nuovo amore è sempre possibile, però serve l'intenzione per stimolare proprio la legge dell'attrazione, per spingerti verso situazioni, verso persone che ti possano dare questa possibilità. Io ho cercato di combinare degli incontri, degli apercena per single, abbinati alla formazione, dove do la possibilità di formarsi e nello stesso tempo conoscere delle persone, formarsi in questo caso sull'autostima, su come far volare la propria autostima. Se tu non sei in grado di far volare la tua autostima, se non sei in grado di amare te stessa o te stesso, difficilmente potrai entrare a delle persone che ti daranno amore, anzi, troverai delle persone che non te lo daranno. E poi, ovviamente, è anche importante entrare però in contatto con persone, come ad esempio single, che abbiano come te l'esigenza di viversi di nuovi amori, per poter massimizzare le possibilità di successo. Quindi, chi fosse interessato, questa percena lo farò a Savona, giovedì 11 maggio alle ore 20, in un locale che si chiama Pepita, nella zona d'Arsena di Savona, nel porto di Savona, in via del Molo 12, e sarà strutturato in una prima fase dove ci sarà questa mia formazione su fai volare l'autostima, come migliorare l'autostima e come conquistare attraverso tecniche di comunicazione seduttiva la persona che ti interessa. E nella seconda fase ci sarà appunto la percena, dove le persone potranno conoscersi, incontrarsi, cercherò di facilitare la conoscenza delle persone, quindi se sei interessato o interessate a partecipare. Il riferimento è 3-3-3, 15-11-7-0-3. Ti aspetto quindi a Savona, venerdì 11 maggio alle ore 20, al Pepita, via del Molo 12, nella zona del porto di Savona. Ti ricordo inoltre che se ti iscrivi al mio canale YouTube avrai la possibilità di vincere dei corsi gratuiti con me e potrai scegliere se farvi dal vivo o via video. Quindi iscriviti al canale. Ciao!